musica 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 volete vedere un paio di tette? andate su youtube cazzoni musica in questo numero entreremo nel cervello delle donne nel cervello? eh oh che palle come l'homo sapiens sempre erectus anche la donna deriva dalla scimmia amperosas ma il tempo ha trasformato le figlie di venere in fottute merose in merda oh zia ti andrebbe di uscire con me? oh no che sfigato ma ve li becco sempre tutti io quando torna il mio stallone congolese vediamo devo elaborare una risposta che non offende i suoi sentimenti ma che al tempo stesso me lo tolga dai piedi ho trovato gli dirò che non sono la ragazza giusta per lui e che merita di meglio sono lesbica what? singolo fidanzate trovano sempre da lamentarsi specialmente a letto quando l'uomo pone la classica domanda del cazzo gotechina ti è piaciuto? tantissimo leplottino mio dio non ho mai vinto così tanti orgasmi in vita mia meriterei di entrare a far parte del guinness dei primati e campione 3.000 orgasmi simulati in un venuto nuovo record mondiale sii cazzo sii insomma la bastardaggine delle donne è come il culo della pausini senza limiti e sono incredibili perché dicono sempre il contrario di quello che pensano amore l'unica cosa che voglio è renderti felice davvero? allora toghti dalle palle caschierino scusami se ti ho fatto soffrire mi perdoni ma certo dopo che ti ha vuoco unificato con tutti i tuoi amici amore lei è Sara la mia migliore amica piacere e ora muori l'urida la putt***** pensate di aver visto tutto? vi sbagliate benvenuti nella modalità ammazzo famiglia dove l'istinto omicida si scatena per futili motivi e tisaro usciamo stasera? non posso ho un torneo di schiappamento a casa di Luca uuuuuh Lucaaa ah fai pure non lo fate e se ti azzardi a farlo vengo a casa di Luca con una motosega vi squarto tutti come non aprite quella porta e uso i resti del vostro corpo per costruire la mia nuova borsetta di Louis Vuitton in conclusione viva le donne ma tentare di capirle è utile quanto essere degli aspiranti falegnami io troppo fottetevi l'unica soluzione è non farsi troppe segmentali meglio vivere nell'ignoranza che conoscere i loro segreti nonna eeeh siamo servi mutandoni da cindialotta? sii cari grazie non mi innova oh cazzo se il video ti è piaciuto iscriviti al canale ma soprattutto condividi su facebook chi non condivide troverà una tipa tranzolla piccola cos'hai? niente eeeh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.